Io te le do, ma in America no, no, no I suoi fratelli alla finestra, mamma mia da se l'ha andata Vai, vai, pure o figlia grata, che qualcosa succederà Quando furono in mezzo al mar di me Ma certo, mamma mia, fatelo male, che non male Allora, questa è una legge, grazie Sotto un po' ci veste per anni Ah, grazie figlio, grazie Se pagano per se fosse ormai Eh, certo, della giornata pure tu Mute la legge, eh Speriamo su quale anno d'inizio Dalla merda Dalla merda, non sopra Allora, Monteriale 1901 Monteriale? Che sta a fare? 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 Allora Miei cari, mi fa piacere che la salute di voi è ottima Così vi assicuro anche della mia, in ora Il mio pensiero è sempre rivolto a voi E più passano i giorni, più la nostra fila aumenta Si può affermare solo con lo stress Quanti anni ci sono rascorsi? Ormai A questo è 10 Eh, eh Se prima di partire E si pensava che dovevamo stare tanto il tempo lontano Il suo pensiero mi avrebbe fatto diventare Passo un po' di 5 Eppure sono trascorsi 4 anni Quattro anni e? Ma quando sono qui? Ma quando sono qui? No, io sono mai in palermo Io mi ho distrutto con me E tu non ho fatto la scuola E tu non ho fatto mangiare il sacramento Io non ho fatto mangiare il sacramento Sono mai in palermo E io ho fatto mangiare il sacramento Ma quando ho fatto mangiare il sacramento Come sono stati lunghi e quanto altro tempo dovrà ancora passare? Allora, spero che il Signore ci dia questa consolazione di poterci raggiacciare ancora una volta, mentre io proseguo qui con il mio lavoro, che ha potuto separarmi dal vostro affetto. Allora, caro ammiglie, mi dici che la campagna verteggia tutta? Speriamo che venga una buona raccolta di noi. Adesso ormai io ce l'ho stavolta a mente tutti. Da quando è partito la tante storie a panorca, no? Perché la mattina fai la zappata risposta. Dopo, io come mi riccio? Vedi che me ne posso, io voglio la zappata bene. E' certo. Dopo, io me ne vedo stracca cinso e gli stammini. Mi vada anche un giorno o no e non ho niente. Se ne vedo a casa, mi straccava lì, mamma lo fa. Eh, mi dice, boh, la zappata è buona. Eh, una volta così che non era un lavoro. No, ma bello, andiamo, andiamo. Diciamo, fino a me, come stiamo a mangiare? E' il tempo di pepe toglie, piantano con un po' di pepe toglie. Non beva, ma anche pepe toglie lo piantano. Ma buca, lasci il bandino a canto. Beh, questo è quello che fa. Scusa, perfetto. Mi capito la potenzione. E' bello, per sé, non la fare, non la fare a casa. Qui, invece, il decimaggio è dedicato per due giorni. Ormai, ormai... Ma io ne porto la ventra, se c'è capito il strutto, la selezza. Se ti muoca fuori, se c'è il bandaglio, se c'è il bandaglio giusto. E tu stai pure a spazzare la legge, ma che è possibile? E dice, ma ce ne voglio? Eh, no, no, questo è quello che è scritto fare. Mando il vostro credito, ormai le legge bene. Sì, e qui, invece, il decimaggio è dedicato per due giorni. Eh, e che brutta temperatura. Ma ecco. Calmo e poi freddo. E mi sono andato. Calma, calma. Ma che il tappè stai a farla parare, se vuoi? Poi, c'è stata la grazia. Burra, grazie! E oggi è una bellissima giornata. No, ma questo è il tuo canamà, ma sono tutti i mari. Ma che potresti? Ma è... Non dicevo, hai lo canamà, ma questo è il tappè? 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 Assieme alla lettera, ho messo 20 dollari di americani che... Lo... Che questa... Ma ecco. Ma... Ma non è ecce? Ormai come si dice? Ispa! Canta, canta! Eh! Quindi torna e piccata! Che ragione è quella? Anche se mi sono costato molta fatica, questo mese me lo sono voluto permettere. Spero che mi siano... Eh, eh! Di grande aiuto! Ma te li son tu, bella mi chiede! Oh, si chiari da lunga! Voglio vedere! Mentre torna e piccata! Mi fermo qui, che la gora già mi si è chiusa e non posso più trascendere. Mi penso sempre che vi abbraccio con tutti i miei affetti e con tutto il mio cuore, vostro Giuseppe! Mi senti di quanto potrebbero volare! Si pone meglio! E, non è qui il mio cananazzo, che portacassi, non lo sai! No, no! E, non è qui questo del Pughro, che adesso non poteva andare a due mese e dobbere non pitele a mio! Non è qui! Non poteva stare a me, non poteva stare a me e ho in questo e vema. Ma a me, non poteva stare a me o a te e a me o a me o a me o a me. Questi sono... Sono sacrifici per la famiglia! E, meno male se stai qualcuno che gli fa... E, eh! O se fangiamo poi spugo! E, quindi, devo essere chiaro i." e nei brazo già tutta l'ora che si mette la legge da qua qui se fate emozionare ma parliamo di stare a sentire male io mi stiene bene il monte che so l'è non ha sentito dov'è? l'evento è che a stelle pedale un po' non lo sento fa ma si è un pedale ah ma ecco la volta che sto a me pezzare le cavalli ma si ma si ma mi chiedeva in strasso ma mi chiedeva un verento scedito attora ma e immediatamente lo giambellone ma sono il maestro ah ah oh no si però figlio di Tupoluri e Tupoluri si e 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 a e e e e e ma i e e e e e e Prego, Rui! Grazie. Grazie.